Oggi parliamo delle doppie. Le doppie sono abbastanza complicate per molti studenti, soprattutto per quelli che non le hanno nella loro lingua. Questo perché? Perché il nostro cervello tende a identificare, a riconoscere, quei suoni che è abituato a sentire. Quindi se noi non siamo abituati a sentire e a differenziare il suono della consonante semplice da quello della consonante doppia, avremo parecchie difficoltà all'inizio. Ma non preoccupatevi perché è questione semplicemente di abituarsi un po'. Quello che possiamo fare all'inizio per insegnare al nostro cervello a ascoltare e sentire questi suoni è ragionarci un po'. Allora, se io prendo la parola le doppie e la confronto con una parola che non esiste, che non è corretta, che sarebbe le doppie, vedo che fondamentalmente il suono di queste due parole si differenzia in due cose fondamentali. La vocale che precede è l'intensità della consonante. Ripeto la prima parola, le doppie, e adesso la seconda, le doppie. Ok? Se io analizzo il suono, vedrò che la prima parola si divide qua, è come se qua ci fosse una micropausa e che questa vocale qui è breve. Ok? Le doppie. Mentre la seconda parola ha una vocale lunga e si divide qui. Le doppie. Ok? Risentiamo di nuovo i due suoni. Le doppie. Le doppie. Ok? Per fare un po' di esercizio, appunto, e per abituarci a distinguere i due suoni, ho preparato una serie di parole. Non ci preoccuperemo del significato di queste parole, le considereremo solo come esempi di fonetica, di suoni e di grafia. Ok? Prendiamo la prima coppia. Io lascerò un paio di secondi dopo aver pronunciato ogni parola in modo che voi le possiate pronunciare anche voi. Vene. Venne. Ok? Sentite come la prima si divide qui. Questa è lunga. Vene. Se io voglio posso allungarla quanto voglio. Vene. Ok? Mentre la seconda ha una brevissima pausa qui e questa è breve. Venne. Venne. Ok. Bello. Bello. Anche qui. Vocale. Breve. Pausina impercettibile qui. Bello. Ripetiamo. Bello. Ok. Vocale lunga. Bello. Bello. Seguente parola. Coppia. Coppia. Nel primo caso vocale lunga. Coppia. Nel secondo caso vocale breve. E micropausa qui. Coppia. 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 Seguente parola. Fatto. Fatto. Vocale lunga. Fatto. Ripetiamo. Fatto. Vocale breve. Fatto. Fatto. Seguente parola. Cassa. Casa. Nella S abbiamo un suono sordo. La doppia S. e un suono sonoro. La S singola. Ok. All'inizio di parola non è la stessa cosa ma se la S sono all'interno di una parola suonano in questo modo. La S sorda si distingue perché non vibra. Ok. Quando voi dite S. Se fate attenzione alla vostra bocca non avete nessuna vibrazione. Mentre nella, però la casa, quando fate casa, sentite che vibra leggermente sulla lingua. Vi fa un po' di solletico sulla lingua. Ok. Anche qui la stessa cosa. Cassa. Casa. Casa. Ok. Seguente. Ecco. 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 Cosa possiamo fare per migliorare, per abituarci al suono delle doppie. Un buon sistema potrebbe essere una o due volte alla settimana, leggere a voce alta un breve testo, due o tre righe al massimo, non di più, ma cercando di leggere in modo molto accurato, molto chiaro, andando più lentamente, andando più lentamente di come magari normalmente leggiamo, e facendo particolare attenzione alla pronuncia. Un'altra idea potrebbe essere fare dei brevi dettati. Anche qui due o tre righe, non di più, ma una o due volte alla settimana. In questo modo ci abitueremo a associare la grafia alla pronuncia. Anche qui due o tre righe, non di più, ma una o due volte alla settimana.